Ciao ragazzi, in questo video come avete già letto dal titolo vi dirò il vero nome di Bistard. Per chi non lo conoscesse, Bistard è uno youtuber italiano abbastanza conosciuto con più di 400.000 iscritti. Questa che vedete è l'immagine di profilo del suo canale. Non si sa se lo abbia lasciato o no, ma prima faceva parte di un gruppo chiamato Illuminati Crew, formato da youtuber quali il vostro caro Dexter, iNewbChannel, BrazzoCrew, Stormi, Xmurri, Jampai e Mike Shosha. Se seguite Bistard, o se seguite altri membri dell'Illuminati Crew, forse saprete già che Bistard non ha ancora rivelato il suo vero nome. Ebbene, dopo varie ricerche, ho scoperto il suo vero nome. Il suo vero nome è... ...Vadimirovich Putin. Il suo vero nome è...